ciao a tutte ragazze benvenuti in un nuovo video allora oggi vi voglio far vedere come applicare queste tip intere come vedete quindi ho già messo una io ho ricevuto tre pacchi di tip adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno di ogni pacco allora quando le andate ad acquistare nel pacco troverete delle tip di varie misure sul sito le trovate veramente di tutti i tipi decorate in tutti i modi di tutte le lunghezze e poi nel box informazioni vi lascio il link al sito e vi lascio un codice sconto del 10 per cento poi troverete un pacchetto con una lima bastoncino d'arancio una salviettina e degli adesivi delle strisce di adesivi sì queste unghie vanno attaccate con gli adesivi però se volete potete anche attaccarle con la base del semi permanente allora come prima cosa cosa dovete fare prima di tutto con la lima che trovate all'interno date la forma le vostre unghie poi come seconda cosa con la salviettina passate su tutte le unghie per pulirle bene dopodiché prendete la misura esatta per le vostre unghie io le avevo già selezionate adesso vi faccio vedere come è facile applicarle allora questi sono gli adesivi come dicevo questi sono gli adesivi ho già tolto la parte vedete qui c'è una carta una pellicola trasparente che va ovviamente tolta l'ho già tolta nel pacco trovate due due come si dice diciamo due pacchetti di adesivi ecco diciamo così allora questi adesivi sono trasparenti quindi voi che fate prendete la misura in questo modo sulla vostra unghia tipo non so io qui andrò a metterne uno piccolo tipo questo quindi cosa faccio lo prendo così lo applico sull'unghia vado a premere per farlo aderire bene su tutta l'unghia e vado a tirare la linguetta per staccare la carta se vedete che la carta non viene via bene vi aiutate con il bastoncino d'arancio che trovate sempre dentro la confezione in questo modo queste ragazze sono adatte a chi magari a non so una festa qualcosa e non ha avuto il tempo di farsi le unghie con queste andate sul sicuro perché non si staccano assolutamente poi che fate prendete la tip e andate ad inserire io vado leggermente sotto cuticola in questo modo premo vedete questa non si stacca e andate avanti ad applicarle tutte adesso le applico tutte vi faccio vedere il risultato finale allora ragazze le applicate tutte su tutta la mano per applicarle ci ho messo diciamo cinque minuti e le ho un po limate perché non mi piacevano troppo perché ho deciso di tenerle su tutta la giornata prendono ad applicare anche l'altra mano perché sul sito loro dicono che durano 24 ore proviamo io farò tutte le faccende tutto quello che c'è da fare in casa con queste unghie però devo dire la verità mi piacciono molto le sento molto stabili ecco non mi sembra che si stacchino facilmente infatti come vedete cioè non penso si stacchino facilmente e vediamo poi vi aggiorno comunque le box informazioni come vi ho già detto vi lascio il link al sito e il codice sconto del 10% e se le provate fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un bacione ci vediamo alla prossima ciao a tutte ciao a tutti